Soggiorno rettangolare con cucina a vista, 6 idee per arredarlo. Arredare un soggiorno rettangolare con cucina a vista offre molte soluzioni versatili, adatte a ogni esigenza di spazio e stile. Dalle pareti multifunzionali alla distribuzione ottimale della luce, esistono idee pratiche e innovative per valorizzare il living. Sia che si tratti di un open space o di spazi contenuti, è possibile creare ambienti accoglienti e funzionali con scelte mirate. La modularità degli arredi e l'uso strategico dei colori possono trasformare anche il soggiorno più piccolo in uno spazio accogliente.